buon venerdì a tutti da claudia baldini l'arte del comunicare stamattina iniziamo benissimo il nostro venerdì con il dottor paolo notaro che parlerà di dolori dolore cronico varie patologie e le terapie che possono essere adottate per curarli diciamo buongiorno dottor notaro buongiorno buongiorno a lei buongiorno a tutti chi ci sta ci sta guardando ci guarderà registrata successivamente sì perché noi siamo mattinieri e vogliamo partire subito con gli commenti stringenti voglio essere sempre tonici allora intanto ringrazio umani igienizzanti e ste radio dj per il supporto del di tutto il mese sulla salute che ci aiutano a divulgare le notizie allora partiamo subito quali sono le patologie che possono causare dolore cronico allora potrei cavare maledicendola semplicemente tutte le patologie acute se non trattate possono provocare dimensioni di dolore cronico di dolore persistente per semplificare ancora di più sono numerose le patologie sempre se non trattate in modo adeguato che possono provocare dolore persistente il distretto della colonna quindi la lombalgia qui dalla parte cervicale fino alla parte sacrale intesa anche la parte pelvica diciamo tutta la struttura con gli organi connessi è un territorio frequentemente che causa dolore cronico persistente i pazienti riferiscono dolore invalidante le patologie reumatiche possono provocare dolore persistente il diabete provoca la neuropatia persistente le nevralgie la neuropatia i pazienti con dolore poscolare il dolore pelvico ci sono una serie di patologie anche il dolore cronico il dolore acuto posto operatorio il dolore da trauma il distresse posto traumatico emotivo grossi traumi ci sono anche esperienze di terremoti anche le esperienze purtroppo di alcuni soggetti che hanno vissuto in prima persona la problematica del covid no con tutti gli effetti cioè tutta una serie di eventi i lutti un lutto la regolazione del lutto sono tutti processi che possono essere dai driver diciamo come innesco ad una sindrome algica che i pazienti riferiscono che non risponde a nulla nessuna terapia invalida sempre di più la qualità di vita ho fatto queste le patologie vascolari cioè c'è una serie di infinite un elenco diciamo quasi infinito di meccanismi che possono innescare quindi vuol dire che le cause possono essere diverse anche come accennavamo nella nell'incontro precedente gli aspetti emotivi possono il distresse posto emotivo spesso è una causa che può favorire tutti i meccanismi di dolore delle patologie diciamo più frequenti accennavamo prima parte la colonna ultimamente c'è un riscontro molto su diagnosi di cosiddetta fibromialgia la fibromialgia diciamo non è in realtà una malattia è una sindrome che associa diversi aspetti comuni in genere uno di genere i malati o le malate sono prevalentemente di sesso femminile e quindi anche sui pazienti con determinate caratteristiche dico questo perché vedo spesso che anche sulle questioni sulla posto sui social o nei congressi quando soprattutto si impatta con i pazienti o la associazione di malati c'è sempre questa tematica un po' galoppante della fibromialgia la fibromialgia diciamo è una sindrome che associa diversi aspetti comuni in generale uno di genere i malati o le malate sono prevalentemente di sesso femminile hanno un'età tra i 45 e 55 anni e sono hanno degli aspetti comuni che sono l'astenia cioè la stanchezza non avere forze rigidità muscolare spesso associato a colon irritabile cioè disturbi del colon frequentemente ci sono forme di associate di dolore pelvico udendo oppure fastidio disturbi di diciamo all'endometrio senza forme magari eccessive di endometriosi il tutto associato a un quadro di diciamo di quadro emotivo profilo emotivo decisamente di deflesso e questo capisce che crea una combinazione di fattori che rende ritornando alla definizione iniziale un dolore riferito una sindrome di riferito con un dolore molto complesso cioè le ho elencato almeno sei aspetti di territorio con cause diverse e con soluzioni e se consoli diverse tutti insieme diciamo in combination questi fattori sono quelli che poi determinano la complessità della gestione no e ho fatto questo esempio perché dà l'idea di diversi componenti ma deve dare l'idea che in una situazione del genere non esiste un farmaco magico no perché poi spesso c'è la rincorsa di una di una soluzione che possa risolvere i problemi tutti queste componenti se siamo d'accordo che le componenti sono diverse abbiamo facciamo un esempio che è molto semplice visto che affligge per numerosità tante persone no paziente con aspetto emotivo è legato al soggetto a prescindere da dolore no eh la combinazione con depressione astenia stanchezza voglia di vivere è legata al contesto sociale affettivo lavorativo del soggetto ed è soggetto dipendente aspetti di di colon irritabile è legato ovviamente all'alimentazione al stile di vita all'emotività del soggetto aspetti anche della sfera intima sono legati agli aspetti relazionali di vita di relazione del soggetto sì come dire solo questi elementi che in apparenza è abbastanza semplice da inquadrare in realtà ognuno ha la sua complessità quindi per dire che non c'è una soluzione unica per tutto la logica qual è di cosiddetto di prendersi carico cioè essere il paziente questo è un concetto che ripeto spesso consapevole della complessità essere consapevole della complessità non vuol dire che la questione è difficile io non utilizzo mai l'espressione difficile perché mi sembra non adatta è complesso questa consapevolezza di consapevolezza cosa porta ha portato via via anche i trattamenti terapeutici ovviamente ad essere diversi se è vero cioè se la sioma è così ed è logico eh è chiaro che il trattamento anche solo farmacologico dei pazienti è quasi sempre una combinazione di fattori perché il paziente non dorme spesso anche l'insonnia ha quegli aspetti di astenia quindi cosa vuol dire che le ricette ci limitiamo un attimo solo alla parte farmacologica le ricette farmacologiche devono sono molecole che combinano cercano di combinare tutti questi aspetti quindi vanno in combination una serie di farmaci spesso a basso dosaggio combinati insieme per sfruttare l'azione l'uno nell'altro perché qual è l'altro grosso problema non dobbiamo provocare effetti collaterali se non diversamente rischiamo diciamo possiamo trovare una situazione abbastanza antipatica di avere un malato una persona in difficoltà in più riusciamo anche noi diciamo a favorire gli effetti di atrogeni non è sempre così automatico però l'obiettivo è quello di non provocare degli effetti collaterali questo è il primo aspetto e chiaramente se le componenti sono diverse è chiaro che le risposte di cura l'efficacia cari tutti sono chi ci ascoltano sono lenti non sono magiche perché c'è una ripresa abbiamo messo la persona la psica aspetti emotivi aspetti anche intimi aspetti di relazione aspetti lavorativi aspetti sociali perché chiaramente c'è anche chi non ha lavoro anche certe logiche certe assenze certi disagi creano maggiore disconforto di altre ad altre situazioni no per priorità no a me capita a volte dire stimolare magari le faccio un esempio perché e poi questa è medicina reale non è medicina da libro diciamo è il libro nuto diciamo alla realtà spesso anche per sempre sui processi riabilitativi no tu stimoli il paziente a prescindere adesso discorso della fibromialgia ma tanto più nel discorso della fibromialgia a innescare un processo riabilitativo che sia fisico che sia psicologico in termini di recupero delle proprie positività chiamiamola così senza andare in aspetti patologici e spesso poi il paziente si scontra con dinamiche sociali perché pazienti o economiche perché il paziente dice ma io ho due figli non riesco piuttosto che no una situazione economica quindi anche i processi riabilitativi vanno poi calati nel contesto di quello che può fare quel soggetto siccome una persona che lavora a famiglia o non ha lavoro purtroppo come capita e devi calare anche lo schema cioè ti devi sforzare nella tua ricetta di calarlo proprio in in quel soggetto dicevo a parte queste tematiche che ti scontri quattro determinamenti che poi ti beneficiano il risultato no perché poi il paziente che ti dice va bene o va male e il va bene o va male è il frutto e la risultante di oltre diciamo alla relazione medico paziente al patto all'efficacia all'abilità dell'uso dei farmaci è dovuto proprio a vale quello che dice il paziente quindi quello che ti dirà il paziente è la risultante di tutti questi aspetti rimarco questo perché dall'idea un pochino della della complessità ma soprattutto della necessità di interagire no di interagire e soprattutto anche di avere un po di pazienza sui risultati perché spesso io capisco l'esasperazione il malato chi gli sta accanto vuole la risposta subito immediata e qui è chiaro diventa quasi una presa in giro no non cioè non si è sedi non è così poi è chiaro che tu hai un soggetto che risponde prontamente alla terapia e questo aiuta come dire a ridurre quel loop che si è creato di vari aspetti dimensionali altre volte non succede schemi terapeutici ne approfitto in generale diciamo oltre ai farmaci che vengono in combinazione tra di loro qui non c'è una molecola anche cennavo credo la volta scorsa ma anche questo meccanismo non capisco a volte di implementazione anche sull'uso della cannabis all'uso terapeutico non va bene ascoltate guardate che è utile a volte è integrata ma non è così ahimè miracolistica è come si a volte senti dire non è assolutamente così guarda abbiamo circa 200 pazienti in linea quindi ho numeri per poterlo dire diceva con questa logica qual è lo sforzo terapeutico e diagnostico in termini di terapia dolore capire a parte la terapia quali sono i meccanismi diciamo è una parolona di eziopatogenesi qual è la causa il distretto anatomico che più prevale nella manifestazione del dolore del soggetto quindi una volta diciamo qua diciamo che dov'è il nemico fra virgolette chiamiamolo nemico no nemico anatomico che più incide la qualità di vita perché tu non puoi ricostruire un paziente nuovo no allora una volta hai capito qual è diciamo il distretto anatomico che più incide si pone il problema se puoi raggiungere quel meccanismo del dolore a parte i farmaci ci puoi interferire direttamente con la la conduzione con l'anatomia sì allora ci sono una serie di di sindrome dolorose in cui tu puoi grazie alla tecnologia puoi interferire diciamo la dico grossa sulle cosiddette vie del dolore no cioè dove il dolore nasce le faccio un esempio pratico fisicamente proprio dove nasce fisicamente sì esatto le faccio una patologia che che spesso chi ci ascolta sa che purtroppo è frequente nel senso problemi della colonna paziente operate alla colonna no di scettomia cioè quindi stabilizzate alla colonna il quale l'intervento spesso frequentemente diciamo è positivo è ottimale da un punto di vista meccanico biomeccanico però il paziente magari da un punto di vista di dolore o limiti funzionali sta uguale o leggermente meglio se non peggio a volte rispetto al prima prima dell'intervento no di stabilizzazione della colonna è chiaro che in questo caso è una colonna barrata diciamo un caso estremo è chiaro il paziente ha dolore alla gamba per intenderci no sì anche se è stato operato alla colonna e in queste logiche cioè tu lo puoi riempire di tutti i morfinici di questo mondo ma non è non tiene mica il risultato quindi posso dice la gamba da cosa è controllata è controllata dalla colonna qual è la parte del sistema non rivolso nella colonna che controlla il movimento la sensibilità delle gambe per esempio in questo caso si inseriscono degli elettro di stimolatori sono i cosiddetti per smerchere del dolore c'è il senso che tu cerchi di interferire su ciò che il paziente percepisce non è complesso è cioè il dolore tutto quello che stiamo facendo anche io adesso che la sto guardando mi sono concentrato al monitor cioè è un impulso elettrico che mi consente in qualche modo di avere attenzione o gesticolare o stare fermo siccome la percezione e energia posso interferire sì esattamente posizionando degli elettro di alimentati da una batteria esattamente sono prodotti inizialmente di derivazione cardiaca no come per smerchere del concetto come tecnologia che vanno a interferire sulla percezione oppure creano confusione perché tutto tutto no tutto quello che noi nella percezione dolore la la trasmissione viene dalla periferia al centro no cioè o dolore alla mano va sulla spalla arriva a midollo spinale va al cervello e gli dirò ahia basta non ce la faccio tutto un arco che viene quindi vuol dire che se la periferia diciamo non riesco più a lavorarci perché non riesco a risolvere il problema mi pongo chi è che controlla il mio braccio sì cioè il mio braccio è nervato dal presso brachiale il presso brachiale da cosa è controllato quindi è controllato a livello cervicale posso creare io so che qui è fallimentare interferire sulla centralina superiore sì sono tecniche molto sofisticate chiaramente con con competenze e e strutture anche organizzative adeguate a da frontale però ecco sono sono le frontiere no come dire questo sono le frontiere tecnologiche con la logica di dire sì io ti do un farmaco a livello sintomatico mi pongo il problema a livello di meccanismo se posso interferire se ne valesse la pena rischio beneficio questo diciamo è una cosa che in genere un po incuriosisce questa idea del pacemaker del dolore ma ci sono cose molto più semplici da spiegare un aspetto importante è la definizione sapere di quello che c'è di cosa stiamo parlando perché spesso tra noi anche tra noi medici oltre che tra medici e malati e opinion leader diciamo c'è confusione di cosa parliamo per esempio lombalgia le sa che la lombalgia mal di schiena peraltro una delle cause maggiori di assenza dal lavoro quindi vi risparmono le dinamiche dei corsi sociali e tutto tutto tutti quegli altri aspetti di dire lombalgia non vuol dire niente in termini tassonomici cioè è molto generica dire è come dire Parma è una città Milano è una città Napoli è una città facciamo un po più gli internazionali Parigi Londra è una città New York è una città ho detto che è una città non so nulla delle caratteristiche singole quindi questo vuol dire cosa vuole dire che esempio anche nella lombalgia la definizione corretta è dire una lombalgia da che cosa ho una lombalgia ho un atteggiamento posturale muscolare di rigidità un atteggiamento ho una cosiddetta sindrome faccettale che sono le gli ammortizzatori della colonna ho una lombalgia da problemi del disco ho una lombalgia da problemi di sacroiliaca cioè dire ho una lombalgia e classificandola secondo la causa tu innesco un percorso totalmente diverso come dire vado a Napoli e faccio il bagno e non puoi dire a Milano vado a fare il bagno se non vai in piscino va all'idroscalo però non vai al mare capisce continua a differenziare e questo è un passaggio importante perché se noi classifichiamo le sindrome secondo il meccanismo anche in questo caso tu puoi intervenire sulla causa del dolore il paziente ha una lombalgia da disco dallo dolore del disco da carico di disco ci sono delle tecniche per cutanea di terapia del dolore che riducono riducono la pressione del disco quindi tu fai una terapia del dolore che non è sintomatica ma è funzionale l'attività perché quel tipo di dolore impedisce l'attività e tu interferisci con l'anatomia è un dolore da cosiddetto scarico biomeccanico il cosiddetto dolore sacroiliaco che i pazienti lo riferiscono spesso al gluteo no la parte alta del gluteo che gli fa male esatto allora tu dici bene posso intervenire su queste articolazioni sì ci sono una serie di tecniche sviluppate che vanno sostanzialmente calore no vi risparmono le forme fisiche cioè sono sono calore che tu degli elettro aghi spesso a radiofrequenza che tu interferisci nel distretto anatomico crea uno stuporo addormenti le radici nervose sensitive non motorie sono creiamo ulteriori danni che estordiscono quella 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 parte che è la causa del dolore mi segue altrettanto sulla lombalgia cioè sulla cosiddetta lombalgia da articolazioni da la faccette no in realtà faccette volgarmente detto ma in realtà si chiama articolazioni zigopofisare che sono i cosiddetti ammortizzatori della colonna no quando noi ci muoviamo articoliamo e c'è quella componente che la causa scatenante cioè come diagnosi se lo se se così fosse si possono trattare in questo modo andando sulla caso a interferire anche lì al livello del sistema nervoso periferico sul sul meccanismo ma li parlo anche di patologie anche molto più impregnate eh pazienti operati ahimè a la mamma tumore alla mammella linfodectomia svuotamento eh degli infonodi a volte per progressione di malattia manifestano per per intenzione un grosso impegno sul plesso brachiale no la massa neoplastica e è chiaro dice anche in quel caso tu puoi pensare se la pazienza fosse non rispondere a nessuna terapia oppure viceversa rischi di avere comunque un paziente sedato ma sempre sofferente no che il fatto che a volte il paziente ha l'impressione che dorme non vuol dire che non senta cioè sedazione e analgesia sono due concetti totalmente diversi e anche lì tipo nei problemi io posso aiutare la paziente posso magari se se ho il tratto della colonna indegna pensare di andare a controllare da dove nasce il problema del plesso brachiale eh capito cioè sono sto cercando di dare che nella visione complessa non difficile ribadisco ogni volta rispetto a contesto paziente contesto patologia tutte quelle variabili ci si pone il problema o dovrebbe esposti il problema come aiutare a meglio quel soggetto in sintomatologia in sintomi associati quindi qualità sono non sono aspetti emotivi e via e sulla e da dove nasce il dolore la tecnologia invasiva quindi tecniche di modulazione a tutti i livelli no dal calore al lasciare letto dalla pompa midollare sulla spasticità ad altre tecniche di dilatazione anche nel canale midollare eh ti aiutano il trattamento anche dell'emicrania cronica non riflettaria perché c'è tutto quel mondo poi della cefalea no di difficile controllo e un altro aspetto è il dolore pelvico no il dolore della neuropatia del pudendo tutte aree paradossalmente che peraltro anche per l'oculizzazione strutturale e funzionale creano particolarmente disagio e anche un lupo comprensibile anche di emotività e psicologicamente negativo e in tutti questi aspetti rispetto al soggetto all'età le situazioni hai l'obbligo in qualche modo di innestare questo percorso ecco quindi il messaggio che 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 voglio cioè molto lasciare molto diciamo in pillola che ci sono delle complessità e di qualche tanta complessità è necessario diciamo un'articolazione delle risposte sempre soggetto dipendente sì che non è che una tecnica utilizza l'altra nega l'altra è una combinazione a garantire la migliore qualità di vita del soggetto facevo l'incenno che tanto va sui social della cannabis poi ci sono i partiti pro e contro cioè signori siamo seri non è questo partito pro contro questo e quell'altro sono dei derivati naturali li facciamo utilizzare a chi li sa utilizzare a uso terapeutico no per altri usi quelli ne risponderanno ognuno alle forze dell'ordine o a chi non so io parlo di parte medica e cioè cerchi di utilizzare tutte le soluzioni che hai ma non è che quindi non c'è nulla di miracolistico è questo il messaggio ma ma sì ma se lei ci pensa tutte le persone già a precedere delle patologie siamo complessi certo se parliamo a definizione che un'esperienza un'esperienza si ricorda il dolore è un'esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole quindi un'esperienza soggettiva già solo questo come definizione al di là del danno del caos dall'idea che chiaramente tutto l'approccio è targattato a singolo soggetto e non è detto questo lato aspetto importante non è detto che tu lavorando cioè trattando 100 pazienti in apparenza con la stessa sindrome dolorosa hai lo stesso risultato io dico sempre fino alla noia anche a chi collabora con me noi non trattiamo una gamba una colonna o una emicrania noi trattiamo un soggetto con l'emicrania un soggetto con dolore pelvico un soggetto con un dolore da fibromialgia e questa non è ripeto una come dire una distinzione tassonomica tra virgolette per fare i figli come dicono i ragazzi moderni no per essere attuale non amo molto come espressione però è così è così questo spiega perché a volte delle approcci troppo semplicisti che poi generano dei fallimenti pazzeschi no persone ieri sera per essere diciamo live ho visto una signora di 48 anni che dove fosse 49 anni è ancora in età fertile e la quale ha una problematica da 12 anni capisce che uno dice quando si parla di esasperazione di aspettativa no ho passato il tempo a parte qualche un'indicazione a dare un'idea di possibile progetto terapeutico a cercare di entrare in empatia con la con la malata perché la è arrivata è la cosa che che mi senza svelare ovviamente nomi niente di situazioni la paziente poi si è rilassata per dire magari ci sta pure ascoltando non lo so ma la dimensione è quella io li faccio alla fine si è rilassata quindi la relazione è diventata molto più semplice no anche il colloquio perché la paziente è arrivata molto esagitata lei mi fa dottore volevo dimostrargli che che era vero quello che gli stavo raccontando perché lei dice sono 12 anni che ho questo problema a livello diagnostico diciamo come spesso non c'è proporzione tra quello che vedi diciamo è il disagio riferito perché il disagio è la somma di tutti quegli aspetti della persona che dicevamo e lei mi faccio quando si è tranquillizzata praticamente a fine visita mi fa dottore mi scusi se sono stato molto così carica ma io volevo dimostrargli che che era vero quello che provassi cioè avevo timore che lei non mi credesse e ritorno al tema accennato creduti se lei le è arrivato gli sforzi maggiori che era a convincermi a convincermi ieri sera a milano erano 18 e 30 circa quindi per dire che non li sto raccontando cose sentite d'altrui lo sforzo della paziente era di convincermi che il problema fosse vero non tanto le dinamiche no quindi è chiaro che cos'è bene le credo vediamo a parte questo problema di relazione di vissuto che cosa si può fare in un soggetto che riferisce 12 anni no quindi dopo 12 anni è chiaro che il danno biologico presunto causa scatenante che è successo a 12 anni in uno soggetto chiaramente ha condizionato tutta una serie di variabili sul riferito ha condizionato una vita intera cioè 12 ma quindi se noi rincorriamo solo la come dire eh la cura del danno biologico iniziale dimentichiamo che abbiamo un soggetto con tutti i vari condizionamenti dei 12 anni è chiaro che l'approccio non può essere come dire monotematico siccome il problema nasceva non so al ginocchio più testo che alla colonna io mi concentro solo su quel ginocchio perché tu rischi di fare una cosa benissimo ma il riferito sarà sempre sì va bene ma esseremo sempre appunto è da capo no e questo è per dire un pochino l'articolazione delle 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 situazioni ecco tra l'altro io questo mese ho scoperto diverse cose sulla salute questa fibromialgia io non la conoscevo e l'ho trovata impressionante come malattia perché è un insieme di dolori no che che possiamo in parte riscontrare tutti a momenti della propria vita e c'è ci sono persone che ci devono convivere invece quotidianamente eh sì perché non non diciamo non è una malattia perché non si sa quale sia il meccanismo no perché c'è una una sequela di 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 effetti che tu hai di sintomi e quindi ci il perché in certi soggetti si manifesta in altri no perché c'è una percezione di un certo tipo cos'è che la la provoca e qui le posso fare almeno citare almeno due o tre ipotesi che sono ipotesi no eh uno dice sono pazienti in cui c'è stato un trauma emotivo perché dice molta anesso tra effetto psicologico diciamo trauma emotivo che non è che vale meno e non è che vale tanto un trauma fisico uguale quindi un distress posto traumatico che ha innescato tutta una serie di manifestazioni quindi come causa scatenante eh il trauma emotivo ci sono aspetti poi di problematiche neuroindocrine c'è anche un nesso no perché guarda caso c'è una netta prevalenza di genere quindi di sesso femminile e in certe fasce d'età in prevalenza vuoi vedere che è tutto il meccanismo neuroindocrine in una fase particolare peraltro della donna diciamo spesso in quelle fasi un po' pre-menopausa o post-menopausa no quindi con tutto diciamo il il caos virgolette ormonale che si innesca eh che possa favorire in qualche modo questo meccanismo in quanto vanno a interferire su almeno due agenti che sono importanti sulla percezione del dolore che sono la dopamina la serotonina no in qualche modo altro per questi neuro ormoni ormoni cioè mediatori per per semplificare che in qualche modo mi complicano altre ipotesi un meccanismo genetico no un qualche fattore di rilascio sui mediatori alla fine l'ho detto che non sappiamo quando comincia quando c'è un professionista comincia a elencare almeno oltre tre cause vuol dire che sostanzialmente potrebbero essere anche altre sedici certo quindi vuol dire che non lo sappiamo le unisce questo questo questa questo disagio comune che l'aspetto più prevalente è l'astenia cioè proprio la mancanza di forze no infatti alcuni poi neanche nelle classificazioni la fibromialgia spesso poi viene associata anche al disturbo delle gambe senza riposo ad agire coloscheletica cioè c'è una c'è una come dire o proprio delle onde che si intersicano molto molto vivacemente ma alla fine come fanno a riconoscerla perché se un paziente arriva non c'è un non c'è una 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 un esame strumentale che le dica guarda che tu hai la fibromialgia perché anche gli esperti anche spesso gli essami infiammatori sono negativi e la clinica diciamo per convenzione internazionale si è tutti più o meno tutti d'accordo che la positività in certe tender point cioè in una serie di tender point ben classificati ben localizzati quindi una certa classificazione e positività fa inglobare includere o escludere il paziente in una presunta sindrome fibromialgia quindi la classificazione clinica è per convenzione viene accettato un certo tipo cioè se il paziente è positivo a un determinato numero di tender point è associato tutta una sequela di quegli aspetti che le accennavo rientra nella che nella fibromialgia poi spesso la cosa buffa che è buffa per sdramatizzare non per mi hanno detto finalmente ho capito che la fibromialgia e allora a volte spesso che l'altro aspetto poi che diventa complesso che la classificazione no della anche se tranquillizza il paziente in termini medici di cura come dire acuto cronico dice più dei tre mesi e meno dei tre mesi di qua è sempre il problema di soddisfare di aiutare il paziente ecco sì è una spessore sempre più abbastanza ricorrente di classificazione di fibromialgia poi capisce che è intuitivo lavorando su una classificazione medica solo clinica è chiaro che questo può prestarsi anche in tutti noi operatori a una no a una devianza di classificazione o un'eccessiva inclusione no sì oppure un'esclusione di fattori ecco però ecco non è una malattia finora c'è poi anche tutto lì una bagarra nel classificare le malattie diciamo attualmente diciamo è un un disagio chiamiamolo così ehm con tutto il rispetto per l'espressione disagio per la gravità della situazione connotato da una serie di questi di di effetti comuni o di costante e quindi io classifico ma una volta classificato tu hai sempre il problema di curare le diverse componenti no enson all'astenia al colon irritabile a questa problematica a a le micranie piuttosto che un'altra situazione quindi era che per dire che far parte di per esempio che dicevo prima della città no tra milano parma piuttosto che entri in una macro classificazione in cui hai quel soggetto è il soggetto claudia soggetto paolo il soggetto maria soggetto quello qualunque nome e che deve aiutarlo nelle diverse componenti no in cui magari uno prevale più la rigidità al mattino io sto malissimo mattino una volta messo in moto no sì che mi accendo vado e poi ricrollo la sera quando mi fermo e quindi dice per me non ho voglia non ho forze dice no 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 capito dice io sto male perché non ho forze quindi anche per dire che spesso anche le il disagio del paziente ovviamente anche molto sfumato no ha delle sfumature contesto contestuali al periodo alla stagione alle situazioni emotive ci sono tutta una serie di di aspetti che vanno indagati eh quando dice si faccio il medico va indagato no e e l'altro è dice no ho problematiche solo quando dormo problematiche solo quando mi svelo mattino ho problematiche sempre oppure ho continue problematiche ma ciò non mi impedisce di fare nulla no cioè cioè dice signora lei cosa riesce io come tendo a parlare a femminile perché proprio per questa tematica un po di genere che che abbiamo su sui malati no eh dice sì ma questo cosa le impedisce no dice io con fatica ma riesco a far tutto accompagno i figli a scuola vado in palestra vive dio benissimo ecco l'altro soggetto che in apparenza con la stessa cosa dice no io sto a letto non riesco più a fare nulla no in in apparenza diciamo quanto riferito è identico allora vale più uno vale più l'altro no è perché quella dimensione contestuale multidimensionale con lo stessa diciamo entrata con la stessa chiave d'entrata in realtà scopri un mondo rispetto a un altro e quindi tu devi aiutare non è che puoi giudicare tu dire no siccome ho deciso ho i sacri testi che è così non è così ecco perché un altro aspetto importante è che la terapia dolore l'algologia la cura del dolore non è un è una scienza che cerca di curare di curare ma diagnosticare e aiutare la riabilitazione di soggetti ecco l'espressione che dicevo non sempre guarisce perché la soddisfazione di guarigione del paciente che ti dica che non ha più nulla quindi che non ha più nulla di motivo che riesce a muoversi che gli aspetti emotivi è che la sinia le è passate facendo sempre lei capisce che è difficile che un paziente riesca a dirti completamente di tutte quelle componenti ma che è tutto zero sì il dolore non c'è la sedia non c'è l'emotività è passata è un'impresa cioè a volte ci si arriva no non sempre si dopo tempo dopo del tempo oppure a volte è una rielaborazione che il paziente ti dice sì dottore non è non è passato completamente ma sto decisamente meglio e quindi l'obiettivo è come dire è la migliore vita possibile quel decisamente meglio non è uno zero assoluto no se non lo analizziamo in assenza di disagio però non impedisce nulla al soggetto e quando si parla di patto terapeutico potrebbe essere un ottimo risultato da raggiungere no io sto parlando delle zone delle zone grigie no che dove ci trovano la maggior parte poi dei malati no che dipende dalle ehm dalle situazioni è chiaro che ribadisco un concetto importante e alla noia diciamo la consapevolezza di quel singolo soggetto e diventa terapia c'è Anna Maria che dice il figlio di un'amica affetto da fibromialgia non alza più neppure una forchetta ma evita qualsiasi cura e la madre non sa più cosa fare e lui ha 53 anni risponde a quanto dicevo prima cioè il paziente non rifiuta quasi terapia bisogna vedere perché però già questa detta così anche se in modo molto generico eh dell'idea no il soggetto a prescindere comunque a un rifiuto sì quindi non è tanto come dire il come è nato prima l'uovo la gallina no colpa dell'uno colpa dell'altro però ho già fatto l'atteggiamento del paziente di rifiuto totale è già un indicatore di di aspetti prevalenti di andare un pochino a a seguire no di aspetti emotivi o di illusioni o o di altre di altre problematiche in cui il fatto che il soggetto non riesca o non possa fare determinate situazioni muove su da letto è legato da una condizione già ex ante come dire iniziale di assoluto rifiuto e quindi vuol dire che bisogna eh concentrarsi su alcuni aspetti preverenti e capire perché eh ma se fisicamente poi non si porta il paziente a il centro eh ma il problema è volerlo il malato deve volerlo la persona che ha problemi deve volerlo non è il parente capisce parente paziente gli sta accanto può può aiutare delle positività ma tu medico non puoi imporre ah sì ognuno è libero di scegliere della propria vita sì 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 ci sono sì ci sono ci sono situazioni eh molto molto al limite adesso se ci ripetete tutti quanti vedete che classificare si è stato abbastanza chiaro no nella quel paziente alla fibromialgia e rifletti su questo atteggiamento dici sì ma sappiamo che nella fibromialgia una serie di sintomi connotati ma nel fatto che un paziente sta letto e rifiuti dopo lo strumentalizzo è fra virgoletti in termini di quanto non sappiamo chi è non gli diamo sì no no ma in termini ne approfitto insieme diciamo strumento il senso dialettico no per è evidente che la nostra classificazione non ci aggiunge nulla dire che quel soggetto x sta letto ma non vuole fare le cure che è dicendo che tanto a quella patologia non ci ha aggiunto nulla ah no no non abbiamo capito dove è il problema in termini di meccanismo è molto sintomatico anche se estremo di in cui la classificazione non aggiunge a nulla no dice va bene e allora e allora da dove si parte esatto paziente che rifiuta ma perché in quelle condizioni no e la fibromialgia o quel tipo di disagio o ci sono altri meccanismi alla base di tutto questo è lì che inizia il percorso ma è chiaro che se dall'altra parte non c'è come dire allineamento o volontà di fare tu non puoi fare nulla cioè non puoi anche perché io prima ascoltato il paziente attivo non so come dire dottoressa il paziente è un soggetto attivo nella cura non è un soggetto passivo eh ma sono tutti i soggetti e tutti i soggetti a prescindere dalle patologie anche alcune ahimè no in cui magari una medicina fa fatica a contrastare se non se non a cercare di contenere gli effetti i pazienti purtroppo dico purtroppo è perché avessimo a volte mi rendo conto perché anch'io su un cittadino e può essere malato non malato no avessimo diciamo quella quella soluzione in cui ci mi danno questo io come persone riparto completamente no tutta la benzina di questo mondo e purtroppo ci si chiede delle capacità delle della forza no di lottare e anche lì umanamente lo comprendo e non tutti hanno queste capacità e di 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 lottare di interagire di aver voglia di fare e lì poi siamo su un finale abbastanza pericoloso no nel senso negativo però sai più che portare rispetto delle condizioni non giudicando niente ma però dire no io non posso aiutare se il malato non non si vuole aiutare non vuole essere aiutato ma questo vale in tutte le condizioni evitando anche quei loop no pericolosi no ma io perché i medici non capiscono niente quello sono andato di fa sono andato di là e vabbè cerchiamo sempre che la colpa di qualcun altro dio si è vittima capito non porta niente cioè possiamo discutere di tutto anche per ore ma da un punto di vista terapeutico si mi dispiace ma non so come aiutarla no che è così è questo bisogna un po sempre sarà almeno in due per cercare di si integrare vogliamo parlare però nello specifico delle varie patologie e terapie oppure è meglio non approfondire no delle varie terapie se vuole le cenno i meccanismi di classificazione diciamo nelle forme cosiddette neuropatiche di dolore prevalente il dolore dicevamo la volta scorsa si classifica diciamo no cicciottivo neuropatico e malattia andiamo visto che siamo sulle forme un po neuropatiche sono quelle forme neuropatiche in cui c'è in qualche modo un danno di interferenza sulla congiunzione nervosa no spesso i pazienti ti dicono che hanno bruciori crampi formicolio hanno alterazioni cioè sì non è dolore forte no però è fastidio bruciore continuo ce l'ho quando sto fermo oppure dopo un po che mi muovo non mi ritorno la notte ad esempio mi calma la notte soprattutto questo diciamo molto semplice veramente molto semplice come classificazione e lì in genere si si le cause possono essere diverse e traume o traume oppure anche ci andavo prima lo stesso diabete per essere una malattia comune problematiche vascolari pazienti con vascolopatie provano queste sensazioni e allora tu fai tutta una serie di farmaci che in genere paradossalmente per informazione su tutti i farmaci come estrazione di antiepilettici farmaci centrali altri farmaci antidepressivi perché spesso dove i pazienti dicono ma come dottore ma ho letto perché poi ma papà internet ormai mamma internet uno col telefonino riscopre in tempo reale non è ancora finito di salutare lui ha già letto ma ma come dice no guardi che si dà proprio per un meccanismo per cercare di ridurre il meccanismo di percezione del dolore e quindi su questo sono le neve ragie sono forme nevropatiche questa è la neve ragia del trigemino no infatti ho un amico che soffre di trigemino e non sa come uscirne ha detto il trigemino è una brutta bestia nel senso che è un disagio continuo e scosse violente che arrivano quando meno te l'aspetti in apparenza sei controllato e poi magari basta un cambio di stagione diventa una tragedia lì sul trigemino diciamo se c'è la causa in apparenza evidente che può essere un disturbo vascolare no centrale spesso non lo è e lì devo dire che effettivamente diventa poi un calvario perché questa andervieni di sintomatologia violenta che magari ti altera comportamenti nella tua autonomia anche nella relazione non posso andare l'unione perché oppure mi arriva violentemente mentre parlo mentre mangio queste eh crisi eh quindi anche un andamento che non è costante no un andamento fluttuante determinato è è chiaro che a livello di approccio farmacologico ma anche invasivo no pone proprio una presa in carico e una complessa una relazione molto stretta come dire proprio proprio devi seguire nel tempo eh molto il soggetto e poi decidere se se la sindrome è ingestibile se decidessi di fare approcci invasivi anche neuro lesivi eh va mostro messo sul piatto rischio beneficio eh perché è chiaro che se tu agisci sul trigemino chi lo comanda è il gangelo di gas le gangelo di aria diciamo sulla base cranica in cui c'è il mondo che passa lì di quindi escludere in assoluto procedura senza potenziali effetti collaterali fate che in medicina non è mai una scienza sa ma tanto più quando va già ad aree ad agire su aree molto affollate di nervi centrali no eh però a volte sì 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 infatti lui non ha ancora trovato eh devo dire molte volte non non si hanno neanche potenziali effetti collaterali temuti eh però è quello che aveva una forma di dolore è il quinto nervo cranico no della eh del cambio della branca trigeminale può essere la parte superiore la intermedia la parte inferiore eh molto molto invalidante a volte i pazienti arrivano anche lì si innesca una sequela pazzesca eh perché spesso diciamo la disfunzione dell'articolazione temporomandibolare no tecnicamente si chiama l'ATM l'articolazione temporomandibolare quindi la rigidità o i disturbi della malocclusione a un certo punto innescono magari una sequela di interventi di odontostomatologici odontoiotrina no poi poi si innesca e dice no da quando ho tolto quel dente brutalmente no ho fatto quell'impianto è successo questo allora dice no allora comincio tutta una serie a volte vedo di 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 ablazioni a volte no di rimozione di impianto di di re impianti e allora non era quello sì di quell'aspetto devo dire che il TG ma che poi per atto storicamente sarà anche letteratura no anche grandi artisti hanno avuto queste problematiche le descrivono chi in pittura chi in altre forme di arte è una cosa decisamente invalidante ma è classificata no anche lì è classificata verificata, va diagnosticata e il contesto paziente è in base a tutti questi meccanismi di intensità, di crisi, di situazioni, di numerosità delle crisi, di tipologia di attività che fa il soggetto, vanno calati, personalizzati, una terapia che contiene tutto, dalla farmacologia alle tecniche invasive, alle tecniche invasive maggiori e al recupero del soggetto, perché quando il soggetto è consapevole che quello mi altera determinate situazioni di emotività, di relazione, si cerca insieme di trovare delle risorse comuni. Ma questi elettricoli che vengono messi nella colonna, sono tecniche invasive? Sì, sono dei presidi, sul trigemine in genere devi andare sul ganglio, quindi cercare un po' di stordire una procedura che fanno chi ha esperienza, chi ha la competenza per poterlo fare, che non ti puoi mica improvvisare, vale in tutte le professioni, anche quello che sta facendo lei, però tanto più su queste tecniche, tu vai a interferire proprio sulla componente sensitiva che scatena la manifestazione, dolorosa. e lì non lasci impianti, lasci le tecniche di elettro in simulazione sulla parte, diciamo, cervicale, sulla parte della colonna. Ma rimangono esterni? No, rimangono interni e il paziente quando è collegato a un pacemaker sente che in genere è in addome, o nella parte posteriore del gluteo, dove tu allocchi lo stimolatore, che è la batteria, se toccando tu senti che dentro hai la batteria, ma da fuori non si vede nulla. Cioè, l'elettro non si vede. È sottocutaneo? Eh sì, non si vede, non si vede, sì, non si vede. Quindi è proprio, proprio, cioè perché il sistema, ma adesso ci sono nuovi sviluppi, perché il gruppo della tecnologia, già il fatto che noi stiamo facendo interviste a distanza, tutto ciò che è, no, la tecnologia può aiutare, sempre più c'è il meccanismo di evitare la batteria con alimentazione, diciamo, autoalimentazione dei sistemi, insomma, anche per ridurre, per evitare proprio l'ingombro piccolo che sia comunque di un oggetto... Eh sì, anche perché le batterie si scaricano prima o poi. Sì, anche lì ci sono, siccome alcuni pazienti consumano tantissima batteria, quindi vuol dire che magari ogni due o tre anni devono fare un intervento per la sostituzione della batteria. E in commesso, diciamo, come metafora anche della telefonia, hanno fatto dei sistemi ricaricabili, no, in cui in qualche modo il paziente si allaccia, una specie di cintura dove è posizionato il generatore, si allaccia proprio alla corrente, con un filo chiaramente, il sistema si ricarica da solo, no? Quindi vengono garantiti sugli otto o dieci anni, e questo per impedire ogni due anni di fare una procedura chirurgica, per dire, tutto un mondo... Penso che arriveremo, o stiamo arrivando di già, a controllo che poi questi sistemi vanno controllati, no? Lei mi parla da una terra di motori, no? Quindi, come in Formula 1, spesso si dice, no, che i piloti ormai non guidano più perché gli ingegneri dai box decidono quando e come ammontare la potenza. Ahimè, la Ferrari in questo momento non è così brillante, malgrado tutto. Però, direi, di controllo a distanza. Presto penso che arriveremo anche con sistemi di telemedicina sulla tecnologia, però chiaramente è la comp, se deve avere un soggetto che in qualche modo è collegato da qualche parte, è in grado di farlo, e tu dall'altra parte, come sto parlando con lei, con chi ci sta ascoltando, da un lato sistema riesci a interfacciarti con i sistemi elettronici che ha per regolare. Quindi dire che sicuramente la tecnologia potrà aiutare, ma il principio non è come lo fai, il principio è perché lo fai, no? Il razionale. La domanda è quella iniziale, cioè, io mi posso interferire anche su sindrome cennate molto complesse, molto invalidanti, no? Pensare di interferire direttamente, sì. Come lo fai? Generalmente il concetto è proprio fisiologico. Il dolore è energia, ti trasmette per energia, e quindi io creo caos nel sistema nervoso, nella colonna, no? Perché viene chiamato il secondo neurone, perché il primo neurone, diciamo, è quello di conduzione dalla periferia, e poi tutto ciò che percepiamo viene considerato il secondo neurone, e poi abbiamo il cervello, no? Che a sua volta rielabola. Posso interferire, diciamo, sulla parte dorsale? Sì, e ci sono tutti questi meccanismi che possono essere, o lasciando l'elettrodo, che è un filo proprio di corrente, con 8, 16 poli, 4 poli, e tu crei un campo elettrico nella colonna, proprio, no? A livello del sistema nervoso centrale. Oppure anche lì, la logica stessa, anche le tecniche lesive, che c'è il nano di radiofrequenza, tu stordisci, diciamo, da dove nasce il problema, o dove tu hai ipotizzato, perché devi fare una diagnosi, no? Sì, devo capire, so, dopo dieci anni, se effettivamente c'è ancora la causa biologica. Capito, dottor S. Dopo dieci anni devo capire se quello che mi riferisce è ancora. Di neuropatie, cennavo prima, che dimenticavo un rispetto importante, la neuropatia post-erpetica, no? Post-fuoco di Sant'Antonio, comunemente detto. Per esempio, anche lì, i pazienti teoricamente guariti dall'infezione virale, non hanno neanche più vescicole, ma ti dicono, guardi, dottore, non riesco a fare la doccia, ogni volta che metto la maglietta mi dà fastidio. Non ti riferiscono mai dolori, ma è proprio questa alterazione della sensibilità che diventa dolorosa. E lì a volte può essere problematico, perché il problema è la periferia, cioè la cute, dove il paziente ha il dorso in genere, dove il paziente ha fastidio, o quella infiammazione in questo oggetto ha innescato un fenomeno di amplificazione centrale. Quindi lui mi riferisce sempre sul dorso, dove ha avuto l'erps, che non vedo più niente, ma lui mi dice che ha fastidio. Però lui continua a riferirmi a fastidio sul dorso, perché il fenomeno si è centralizzato. Quindi tu puoi mettere tutte le... Capito? La diagnosi è importante, perché sennò rischi di fare una marea di terapie che non serviranno assolutamente a niente. E tra l'altro, il popolo di Sant'Antonio ho letto che ci sono stati molti casi in quest'ultimo anno, cioè sono aumentati. Eh sì, ma lì c'è una ragione, lo sa qual è. Prima nell'erps e zoster, diciamo, il popolo di Sant'Antonio si vedeva sostanzialmente comunemente, anche nei luoghi comuni, nel sententale, proprio nel medichese ultra specialistico, nei pazienti anziani, nei pazienti sottoposti a terapie immunodepressive, no? E quindi l'intuit, la considerazione ovvia e logica era che il paziente, diciamo, avendo meno difese, no? Immunità, è facile che ci sia questa situazione. In quest'ultimo anno sono molto aumentate, perché è successo, ahimè, questa convivenza che abbiamo con la problematica della pandemia da Covid-19, il quale non fa... quale cosa innesca? Innesca tutta una problematica conscia e spesso anche inconscia, molto tensiva, no? Di stress emotivo. E lo stress emotivo è una di quelle cause in qualche modo che abbassa un po' le difese immunitarie, visto che abbiamo seguito questo filone e quindi chiaramente certe forme di manifestazioni che prima magari proporzionalmente ne vedevi di meno, sono come numerosità aumentate, ma la causa è ben precisa e tutto quello che il mondo sta vivendo, no? Quindi i soggetti che magari in assenza di quel contesto, di quel trauma probabilmente non avrebbero avuto, si sarebbe manifestata quella manifestazione, in questo, vede contesto, contesto paziente, questo è un contesto emotivo, no? Tutti siamo bombardati ogni giorno da questo timore, attenzione, sacro santo più diverso dalle situazioni e quindi in alcuni soggetti manifestano, no? Non mica è consapevole, no? Se tu vai a cercare la causa non la trovi, non è che c'è vedere come lo stesso emotivo da covid in quel soggetto metto il nesso diretto, faccio un esempio, non lo trovi, è evidente, però siccome sappiamo che gli stress, l'ansia, l'emotività favorisce, no? Una riduzione immunitaria, un stato immunodepressivo, guarda caso poi vedi le manifestazioni, quindi come vede torna. Ci saranno molti più ammalati quindi quest'anno, perché la paura diciamo che ha coinvolto molte persone. C'è ancora. Eh sì, purtroppo non ne siamo fuori, quindi non possiamo dire, però diciamo lì si è innescato un fenomeno abbastanza strano che è questo. C'è strano ma in realtà anche socialmente comprensibile, non è solo in termini di medicina. La paura improvvisamente ha innescato, cioè il terrore, la paura che tutti, tutti, cioè sfido chiunque a fare, come dire, il farfallone e dire no, non è così, no, si è innescato paura, no? In tutti i contesti di lavoro, famiglie, situazioni, però paradossalmente la paura maggiore di quella situazione sembra che a dimensione del bisogno, no? Si siano tutti un po' come dire giochiamo di priorità, quasi che si tenesse ora a bada determinate criticità, no? Come diciamo siamo usciti, siamo usciti dalla prima fase, definiamo, In tarda primavera, inizio dell'estate, è esplosa improvvisamente tutta, no? di colpo e è riesplosa tutta una dimensione con pazienti spesso un po' più carichi io li definiscono, no? Rispetto a qualche mese fa. Quindi, capito? La paura è come nella vita, no? In genere uno pensa che la sua preoccupazione sia una certa cosa X, poi succede Y e la cosa X diventa secondaria. Sì. Le dico questa interpretazione perché poi quando diciamo si è tornati in un contesto, un po' più gestibile, improvvisamente è riesplosa tutta quella domanda con le persone, i pazienti provati, quindi un po' più esasperati. Sono quasi guariti. No, no, le riescono le riescono le cose che avessero tenuto a freno determinati, io sto parlando ovviamente di atteggiamenti generali, non di singole situazioni, no? Proprio un atteggiamento sociale e sanitario di quella grossa paura riesco a tenere a bada o procrastino delle situazioni. Appena si riapre la finestra, no? Dice riaccesso a tutti senza grande diciamo criterio diciamo di blocco, no? E improvvisamente è riesplosa l'overdomanda su tutto con in più i pazienti non provati dall'aspetto emotivo della pandemia che è vissuto che è tuttora in essere un po' più agguerriti mettiamo si persone un po' più arrabbiate cioè tanto bravi nel come dire nel gestito tutti noi sto parlando da cittadino nel gestire ed essere molto attenti molto molto adeguati a misure a restrizioni quanto poi dopo certe situazioni gestito poi diciamo vabbè vado dopo riesco a gestire al telefono le situazioni poi nel momento dice beh adesso si può accedere è diventato riammentata ma con aggressività aggressività nel senso un po' di rabbia frutto di situazioni anche lì spesso ultimamente noi vediamo presenti molto carichi no? Perché quindi quel vissuto in quegli mesi chiaramente bravi bravi vari nel contenere poi spesso poi diventa anche un'emotività difficile da gestire anche nella relazione no? Questa carica e anche quel timore che c'è tuttora noi abbiamo fatto a proposito per esempio abbiamo fatto una cosa interessante perché ovviamente quando c'è stato il blocco delle visite noi lavoravamo sulle urgenze o su situazioni non differibili no? Noi non abbiamo mai chiuso come attività abbiamo si sono selezionati gli accessi per quelle situazioni che non potevi non vedere no? e allora per cercare di aiutare quelle situazioni un po' più ibride no? non urgenti ma differibili abbiamo incrementato diciamo un supporto telefonico no? la pseudo la pseudo forma di telemedicina chiamiamola così telefonica si spesso facendo sponda con i medicini di medicina generale no? triangolando un pochino le situazioni e devo dire che è stata un'esperienza e lo è tuttora perché l'attività a quel punto siccome funzionava non l'abbiamo per nulla sospesa che sulla gestione degli aspetti emotivi sul in qualche modo mi permette il termine rassicurare i pazienti i malati che che sono seguiti anche se non sente una voce e non vede non ha l'accesso ha aiutato molto è stata un'esperienza e lo è tuttora molto utile perché aiuta un pochino a capire il bisogno dei malati che hanno di sentirsi seguiti beh sicuramente uno non si sente abbandonato esatto che è sorprendente uno dice vabbè lo diciamo tutti poi quando lo vedi coni uno mi dice beh insomma non è e e l'altro quanto soprattutto poi triangolando diciamo in relazione molto di più con gli altri specialisti e i medici di base a sua volta tutti nelle stesse condizioni sono un po' forzati nel cercare di selezionare gli accessi e le visite quanto certe situazioni possono essere gestite calmerate rassicurando i malati con la scoperta dell'acqua calda ho capito ma quando la traduci in un modello organizzativo vedi che non è la scoperta dell'acqua calda no che funziona eh sì però come dire comporta che l'organizzazione diventa tempo visita la telefonato o breve penso arriveremo alla telemedicina dove è possibile farlo nei contesti che è possibile farlo ovviamente nelle situazioni che si possa farlo è esattamente tempo tempo medico no esattamente come chi sta visitando no capito non è un optional come dire no non è un optional ma è una dimensione da gestire da monitorare nelle organizzazioni dei servizi no come detto cioè non è una telefonata è un processo di cura di assistenza che tu fai quindi va codificato registrato monitorato e io credo da queste esperienze si può essere può essere fatto non in tutti i pazienti non in tutte quelle condizioni ma in condizioni selezionate in cui il ruolo della medicina del territorio quindi della dei vicevice generali o di altri specialisti è importante diciamo come confronto raffronto o come il tutorial è spinta a innescare o decidere percorsi terapeutici anche a distanza e sono diversamente non fischio di fare questo sarà un bel traguardo quando ci sarà traguardo sono delle evoluzioni a volte le condizioni ti fanno innescare delle virtù come dire le condizioni estreme vissute siccome devi cercare in qualche modo di dare delle risposte magari ti ingegni molto di più salto di sopravvivenza quindi anche da un punto di vista organizzativo ci sono i malati non vengono più oppure riduciamo gli accessi e tutti gli altri come si fa dove vanno non possono andare in punto soccorso di sua volta tutti i colleghi della medicina generale ovviamente anche loro selettivi nell'accesso cioè come riusciamo a sistema a cercare di aiutare in modo rigoroso e scientifico anche se non vedendo il paziente nelle organizzazioni di questi soggetti quindi questo sarà secondo me un altro aspetto che vedrà che se ci sentiremo fa qualche tempo vedrà che l'offerta diciamo c'è già in alcune aree in alcuni paesi europei in alcuni paesi da tappati del mondo non tanto europei per le distanze no? probabilmente di distanze enormi tra centrospedalieri di riferimento e vissuto territoriale dove risiedono i pazienti faccio un esempio in Australia e quindi è chiaro che è lì pensato di necessità quindi tu spingi molto sulla tecnologia e su delle forme che comunque devono essere sempre protette se no rischiamo di fare l'accusa che dice che doctor google cure i pazienti quindi è chiaro che deve essere codificato degli standard condivisi misurabili risultati no? non è una chiacchierata telefonica processo codificato che deve essere registrato entrare nel fascicolo sanitario leggibile modificabile tutto tutto organizzato bene dottor notaro anche questa questo appuntamento è stato importantissimo secondo me per chi ci ha seguito per chi vuole delle informazioni dettagliate per i propri problemi cosa vi consigliamo di andare dal proprio medico di fare l'impegno io devo dire che in Italia come accennavo a volte ci lamentiamo sempre in Italia di quei paesi che una sanità è pubblica questo teniamoci la stessa lo ribadisco da cittadino a prospinare le proprie ideologie secondo stimolare il proprio medico di base di fronte a qualsiasi sia la forma diciamo che non guarisce oppure perdura al di là dei tempi di guarigione cercare di essere tempestivi perché la tempestività poi diventa un fattore chiave nel cercare di avere migliore efficacia delle terapie e stimolare se magari non c'è un'adeguata informazione o conoscenza come può succedere perché siamo tutti umani a prescindere delle professioni trovare anche sui riferimenti regionali di ogni singola regione dove sono i centri di riferimento di terapia dolore e cercare di facilitarne anche l'accesso però ecco preoccuparsene stimolare le offerte ci sono sono un po' pure variegate però diciamo il tema va affrontato insomma la salute è importante quando si sta bene fisicamente e psicologicamente si affronta bene tutto il nostro quotidiano grazie mille dottore grazie a voi che ci avete ascoltato fino in fondo e grazie anche a chi ci riascolterà in differita grazie a tutti